Musica Musica Ben trovati l'appuntamento con il Consiglio, il settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Questo nostro appuntamento può essere visto anche come uno spartiacque tra passato, presente e soprattutto futuro. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato anche quella che è stata la conferenza di fine anno del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo che ci siamo poi lasciati e da lì ripartiremo nell'approvazione del bilancio di previsione. I temi invece che affrontiamo in questo appuntamento sono le priorità dei gruppi consigliari per la ripartenza dei lavori di aula, parleremo anche del sostegno straordinario che arriva dal Consiglio regionale agli enti fieristici e poi facciamo il bilancio del difensore civico per questo 2020 che ci siamo lasciati alle spalle. La seduta del primo Consiglio regionale del 2021 è fissata per martedì 12 e mercoledì 13 gennaio e fa seguito a quella del 21, 22 e 23 dicembre nelle quali è stato approvato il bilancio di previsione. Proprio in quell'occasione abbiamo chiesto ai consiglieri regionali quali fossero le loro priorità da affrontare proprio nelle prime sedute del 2021. Ecco come ci hanno risposto. La priorità ancora deve essere quella di lavorare e investire per la tutela della salute, per l'uscita dall'emergenza sanitaria, quindi riqualificare la nostra rete ospedaliera, rafforzare i servizi territoriali e l'integrazione sociale e sanitaria e poi gli investimenti in infrastrutture e il sostegno alle nostre imprese, sia attraverso i ristori, anche con attenzione a quei settori e a quelle aziende che fino ad oggi hanno avuto meno attenzione da parte del Governo centrale, ma poi anche e soprattutto creando le basi e le condizioni per una ripartenza. Perché noi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare ad una Toscana che riprende possibilmente a correre il prima possibile. Ne abbiamo tutte le caratteristiche e abbiamo anche la volontà come Regione e come enti pubblici, spero nel suo complesso, di dare quel supporto, di creare quella cornice anche attraverso politiche di sburocratizzazione perché il sistema economico possa riprendere a produrre e dare occupazione. La prima sicuramente essere al fianco di chi ha pagato in maniera folle la stagione dalla quale speriamo stiamo piano piano uscendo. Noi dobbiamo non dimenticarci di quello che è successo fuori da questi palazzi, non dimenticarci che fuori da questi palazzi ci sono categorie intere che rischiano di sparire, ci sono intere categorie economiche che rischiano di essere cancellate per sempre dal tessuto sociale della nostra regione, della nostra nazione e a questi noi dobbiamo una risposta. Italia Viva intanto termina il 2020 con dei risultati importanti che ci hanno consentito di portare a casa la discussione sul recovery plan, di portare e di sospendere la discussione rispetto alla modifica dello statuto che non ci trovava a Concordi e vorrà portare avanti discussioni nel merito, penso con quello che abbiamo fatto sull'istituzionalizzazione della Guardia Medica o penso con le risorse da fare sulla sanità, il piano vaccini, accompagnare il percorso sanitario e fare investimenti strutturali, accompagnare il percorso del turismo, potrebbe essere l'anno della rinascita della nostra regione e quindi serve una grande strategia che riguarda il turismo, la realizzazione degli interventi infrastrutturali che abbiamo chiesto, sostegno alle imprese e alle categorie sociali maggiormente in difficoltà e a tutti coloro che hanno perso anche e potrebbero rischiare di perdere il lavoro nei prossimi mesi. Quindi sarà un anno complesso nel quale Italia Viva si farà sentire e giocherà una partita a favore dello sviluppo ma anche dell'assistenza e del sostegno economico e sociale alle categorie più deboli e soprattutto però sarà l'anno nell'ambito del quale ci misureremo rispetto a alcune scelte strategiche, penso al piano dei rifiuti e piano infrastrutturale da realizzare nei prossimi cinque anni. Le priorità ovviamente rimangono quelle dell'economia, soprattutto legate a questo brutto periodo che noi tutti abbiamo vissuto. Abbiamo ovviamente una grande pletora purtroppo di persone che non hanno ricevuto niente dai decreti ristorici, che sono rimaste escluse, che hanno bisogno di sostegno. Abbiamo da progettare una Toscana che purtroppo sappiamo sarà diversa dopo la pandemia, come sarà diversa probabilmente tutta l'economia nazionale se non mondiale. Dobbiamo lavorare velocemente perché ogni giorno di lavoro perso per molti dei nostri cittadini può significare non riaprire il proprio negozio, può significare la morte del nostro comparto artigianale che è fondamentale e soprattutto voglio ricordare che la Toscana ha prodotti di qualità, dall'enogastronomico al commerciale al tessile. Abbiamo tre distretti fondamentali che vanno salvaguardati e supportati adeguatamente e abbiamo da pensare a questo. Fosse anche che si deve farle notti per cercare di trovare soluzioni, ora è indispensabile farle perché ne va della sopravvivenza proprio di tutto il tessuto sociale. Un grande investimento di sostegno alle nostre imprese perché questo è quello che noi dobbiamo fare. Dobbiamo capire che in questo momento noi dobbiamo tenere il tessuto economico che abbiamo fatto da artigiani, tassisti, ambulanti, fieristi, bar, ristoranti, cioè da tutte quelle piccole imprese che in questo momento fanno grande fatica e che tutte le risorse devono essere messe lì a fondo perduto perché quel tessuto commerciale e artigiano è il tessuto che ci potrà servire per ripartire. Se non capiamo questo vivremo una crisi senza precedenti perché andremo ad avere a marzo, purtroppo arriverà anche lo sblocco dei licenziamenti e quindi ci sarà la possibilità di licenziare, non ci sarà più la cassa integrazione che sosterrà i lavoratori e quindi i licenziati molto probabilmente non potranno andare da nessuna parte perché lo Stato non ha più soldi, l'unica possibilità è sostenere le attività imprenditoriali e questo lo possiamo fare soltanto attraverso alcune misure, la prima è il fondo perduto, dobbiamo sostenere quello che noi oggi abbiamo. Poi penseremo anche a come trasformare, a come riportare i turisti, ma se non facciamo questo e poi l'altra misura che noi dobbiamo fare è sostegno a medici, infermieri, al mondo del volontariato perché chi va a giro negli ospedali, io mi sono fatto un giro anche la settimana scorsa, si rende conto come quel sistema è sotto stress, non soltanto nei luoghi dove c'è il Covid ma in tutto il plesso ospedaliero, anche laddove si fanno i prelievi, per esempio alla piastra a Careggi la mattina chi fa i prelievi è sotto stress perché non sa mai chi si trova di fronte e sono costretti anche a lavorare in condizioni davvero disagiate, sempre con la mascherina, sempre con i guanti, sempre con i camici, quindi quel mondo lì va sostenuto. Innanzitutto digitalizzazione, la banda larga è una priorità ma a questo punto dobbiamo fare un passo indietro e pensare semplicemente già a dare una connessione internet ad alcune aree, siamo molto indietro rispetto al resto dell'Europa e persino a molte parti dell'Italia. Innovazione che significa anche una digitalizzazione della pubblica amministrazione e in questo senso bisogna procedere speditamente così come sta andando l'agenda della ministra Dadone che sta facendo un grande lavoro in questa direzione e bisogna guardare all'ambiente perché se è vero che la sanità è importante gestire al meglio l'ambiente, andare verso un superamento delle discariche, degli inceneritori e rendere il Green Deal, quindi il patto per il verde, per l'ambiente davvero reale bisogna andare verso un cambio di prospettive. Aspettiamo il piano rifiuti ad esempio e il piano amianto e aspettiamo che la scuola in Toscana ritorni al centro dell'agenda e non venga semplicemente vista come un qualcosa che si deve gestire in qualche modo tra le mille emergenze. Anche lì la ministra Zolina ha messo centinaia di milioni per il rinnovo delle scuole, l'edilizia scolastica, dobbiamo continuare ad andare in questa direzione pensando appunto come per il piano resilienza alle generazioni future. È la nostra ultima chance probabilmente. E quindi buon lavoro anche a tutti i gruppi consigliari per questo 2021. Facciamo un passo indietro e parliamo del contributo di 2 milioni di euro a fondo perduto dal destinato agli antiferistici che si trovano in Toscana a parziale compensazione dei mancati ricavi per l'emergenza Covid. Lo prevede la legge che è stata approvata nelle ultime sedute a maggioranza in aula con 31 sì e 7 astenuti. La legge risponde alle esigenze di un intervento generale a carattere modulare e si prevedono varie modalità con una soglia massima di 800 mila euro a fondo perduto, calcolate in base alle perdite di fatturato, distinguendo gli antiferistici con superficie sopra o sotto i 15 mila metri quadri. Sì, con questa approvazione in consiglio si conferma un'altra forma di indennizzo a una parte di quegli enti che sono stati fortemente danneggiati durante la pandemia. In questo caso si tratta in particolare degli antiferistici che hanno dovuto annullare per ovvi motivi tutte le manifestazioni legate al periodo del Covid e quindi da febbraio. Annullare queste manifestazioni non vuol dire solo annullare un evento ma vuol dire annullare e andare a far calare il fatturato che ha ricadute pesanti su tutto l'indotto, sui lavoratori, sulle cooperative, su tutto il sistema che è collegato agli antiferistici. La regione toscana stanza 2 milioni a fondo perduto, ovviamente a seguito di una prova della perdita del fatturato, suddividendo fra antiferistici sopra i 15 mila metri quadri e sotto i 15 mila metri quadri. Quindi provando a dare dignità anche a quegli enti che non sono i grandi che conosciamo ma anche quelli medio-piccoli. Quindi crediamo che questo rappresenti un piccolo indennizzo, un aiuto e una vicinanza da parte del Consiglio e della Giunta a un altro settore economico che ha subito un forte danneggiamento dall'epidemia. Siamo in attesa di avere le risorse aggiuntive da parte del Governo in modo tale da poter anticipare ulteriori risorse. Questa è la sfida di questo momento e come partito siamo impegnati per fare in modo che il maggior numero delle attività che hanno sofferto in questo 2020 possano ottenere dei ristori nelle prossime settimane. Sia i grandi enti, sia i grandi soggetti come i piccoli, tutto il sistema di carattere economico partendo dal piccolo commercio, l'artigianato e l'impresa che è quella che più di tutti ha sofferto in questo 2020. Tutte quelle misure a sostegno delle nostre imprese, delle nostre attività toscane non possono che trovarci ed accogliere una posizione di favore e di apertura. Naturalmente abbiamo voluto chiedere in Consiglio regionale di non dimenticare tutto l'indotto del sistema fieristico, tutti coloro che lavorano, che fanno le fiere quotidianamente. Per esempio mi viene in mente il wedding, il mondo dei matrimoni, che ha subito, leggiamo oggi sui quotidiani, un calo dell'80%, proprio dovuto anche a non poter svolgere i matrimoni, ma soprattutto a non poter più fare le fiere che sponsorizzavano proprio la loro arte del mondo dei matrimoni. E quindi ecco, l'impegno che chiediamo e abbiamo chiesto anche all'intero Consiglio regionale è quello, sì, di non dimenticare i nostri importanti poli con questa proposta di legge, ma non dimenticare soprattutto l'indotto e i piccoli che all'interno di queste fiere lavorano. 1940 sono state le pratiche presentate al difensore civico della Toscana nel 2020. Si rileva un sensibile aumento delle istanze presentate, ma si sottolineano i tempi di risposta molto più veloci. Invece, grazie a una nuova metodologia, le istanze vengono subito protocollate e assegnate al difensore. Molto presente l'attività del difensore civico sui territori. Nel 2019 sono stati aperti sei sportelli, ne abbiamo parlato a Pistoia, Rezzo, Siena, Pisa e due sub provinciali a Sinalunga e a Ponsacco. Nel 2020 dovevano essere aperti degli sportelli a Grosseto, Prato, Livorno, Lucca, ma appunto l'emergenza sanitaria li ha bloccati. Ci fa sapere il difensore civico che verranno sicuramente attuati nel 2021 insieme a quelli di Massa Carrara all'isola d'Elba per un totale di 13 presidi. Ma ascoltiamo proprio il difensore civico su questo bilancio del 2020. Il bilancio dell'ufficio della difesa civica regionale oggi, 23 dicembre, siamo a 1900 istanze presentate dai cittadini. Già oltre 100 rispetto a quelle dell'anno precedente e ci sono delle proiezioni per superare abbondantemente le 2000. In questo conteggio non ci sono le pratiche che in questo momento sono in lavorazione. Quindi una crescita prevalentemente sull'emergenza sanitaria. 150 casistiche di natura generale hanno riguardato problemi di cittadini sul Covid, ma non singoli problemi, ma problemi che appunto riguardano la loro generalità di diritti. Tante istanze sul tema dell'emergenza economica, bollette, luce, acqua e gas, quelle che prima pesavano in una certa maniera con l'emergenza economica pesano molto di più. La difficoltà dei cittadini è rivolta soprattutto ai gestori dei servizi, luce, acqua, acqua un po' meglio grazie alla presenza di AIT, Autorità Idrica Toscana, dove c'è una conciliazione che viene svolta da anni. Il difensore, grazie ad AIT, svolge questo ruolo di definizione delle controverse tramite un organismo nato, appunto un organismo di conciliazione nell'acqua. Ma la luce e il gas e l'energia hanno dei problemi perché l'interlocuzione è con non gestori di prossimità ma gestori nazionali. Così il tema del digital divide della telefonia. I cittadini vedono in noi un filtro, svolgiamo una funzione di filtro verso i conflitti che i cittadini hanno con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici. Siamo sostanzialmente nel corpo umano il fegato. Da noi vengono a portare i problemi. Da noi i cittadini trovano un punto di ascolto e noi cerchiamo di rimuovere gli ostacoli che sovente hanno con la pubblica amministrazione adempimenti online non sempre ben funzionanti. Tutto il tema del rapporto alla pubblica amministrazione e anche trasporti pubblici che dobbiamo dire abbiamo rilevato molti problemi soprattutto oltre che in sanità ma anche con i gestori dei servizi pubblici. Innanzitutto consentitemi di ringraziare Sandro Vannini e tutti gli uffici per le enormi lavoro svolto in questi anni, in un anno difficile, l'anno della pandemia che ha sconvolto la vita di ciascuno di noi. C'è stato ancora di più grande capacità di essere vicino ai cittadini della Toscana. Io intendo il ruolo del difensore civico non solamente come colui che difende le istanze dei cittadini ma colui che crea dei legami tra i cittadini e le istituzioni. Esattamente in linea con la mia idea di governo della regione toscana. L'idea di fare del Consiglio regionale un luogo per dare voce a chi voce non ce l'ha, uno spazio aperto in cui i cittadini si sentano a casa propria. Troppo spesso il Consiglio regionale non viene percepito da chi sta sul territorio per quello che è il suo lavoro e per quello che viene fatto. Io credo che la strada intrapresa sia quella giusta anche con degli uffici territoriali. ne abbiamo inaugurato insieme, uno a Pisa lo scorso anno ma ci sono in varie parti della regione. La strada è quella portare sempre più la regione verso i territori per fare in modo che anche i territori più disagiati possano avere le loro opportunità come tutti gli altri. Ed infine una proposta che ho fatto già al difensore civico, quella di lavorare ancora di più sul tema del divide digitale per dare risposte a chi oggi ha meno risposte su questo tema. Io ho lanciato la proposta, è stata approvata nel recovery fund di fare in modo che la banda larga, il 5G ci sia in tutta la Toscana anche nelle aree in cui i privati non vogliono investire. Credo che questa sia una strada da perseguire insieme. Sono convinto che Sandro e gli uffici lo faranno con passione, dedizione e con l'impegno e li contraddistingue. E così si conclude il nostro appuntamento con Dentro il Consiglio. Per tutti gli aggiornamenti, tutte le informazioni vi ricordo la pagina internet www.consiglio.regione.toscana.it. Io vi aspetto qua fra sette giorni, come sempre, Dentro il Consiglio. Grazie a tutti.